Musica Eccoci tornati anche per la pagina sportiva del TG Noi, dunque la Lucchese ha debuttato in campionato al Franchi di Siena, tra certa che sulla carta si presentava molto complicata, anche perché i rossoneri si presentavano in formazione largamente rimaneggiata. Debutto al Franchi di Siena per la Lucchese, rimaneggiata da molte assenze, infarcita di giovani ma vogliosa di ben figurare al cospetto della blasonata Robur. Circa un centinaio i sostenitori della Pantera calati da Lucche in una serata ancora tipicamente pienamente estiva. Lopez recupera Devena che fa coppia con Bortorusi e mette specie in mediana, per il resto all'undice annunciato, Maglie e Del Sante si accomodano in panchina. Il primo tempo vede l'ossoneri giostrare con buona disinvoltura ed è proprio la squadra di Lopez che si fa preferire sul piano del gioco. I primi 20 minuti sono di pura schermaglia tattica, al 23 la prima vera occasione capita sui piedi di Bortorusi ma pane attento. Ci prova anche il vivace Arrigoni mentre Federico Russo scuote la gara con alcune violente accelerazioni che i difensori senesi mostrano di non gradire. Dall'altra parte attenzione all'ex Marotta che però non è preciso, insomma una prima frazione di gioco che non offre grandissimi spunti ma nella quale la giovane lucchese fa la sua bella figura. Il refrain del match cambia però nella ripresa, scosso da mister Mignani ora il Siena è più determinato e cattivo, prendono campo i bianconeri locali e la lucchese è costretta sulla difensiva. Al decimo la Robur passa, l'azione si sviluppa sulla destra con un lungo traversone che attraversa tutta l'area e sorprende l'imbambolata difesa rossonera, dall'altra parte sbuca Cristiani che mette in rete per il punto del vantaggio. Lopez allora prova a cambiare dentro del Sante, Cardore e Merlonghi ma la sostanza non cambia, anzi alla mezz'ora il Siena potrebbe chiudere il match ma la conclusione di Bulevardi si spegne sul palo. Solo nel finale, 4 minuti di recupero, la lucchese cerca un generoso ma sterile assalto, una punizione sprecata da Rigoni e l'ultima chance. Finisce una 0 per il Siena che vince con merito pur senza incantare. La lucchese incassa una sconfitta che ci può stare, riparte dal buon primo tempo, consapevole che devono rientrare alcuni giocatori fondamentali, Fanucchi, Tavanti, Cecchini e Nolè. La riprova fra 7 giorni al Porta Elisa nel derby contro il Ponte D'Era. Vediamo il quadro quasi completo dei risultati della prima giornata del campionato di Serie C, Girone A. Arezzo Arzachena 2-3, Cuneo Cararese 0-1, Livorno Gavorrano 2-1, Monza Piacenza 2-0, Olbia Pisa è il posticipo, Ponte D'Era Alessandria 1-1, Propiacenza Gianna Arminio 3-1, Siena Lucchese come abbiamo visto 1-0, Viterbese Prato 3-1, riposava la Pistoiese. Beh, la classifica non ha bisogno di troppi commenti, naturalmente con tre punti ci sono le squadre che hanno vinto, un punto Alessandria e Ponte D'Era nell'unico pareggio finora della giornata, a 0 le altre con Pistoiese che non ha ancora giocato, Olbia e Pisa che a loro volta devono ancora scendere in campo. Siamo al calcio femminile, nella prima gara del triangolare di Coppa Italia, giocata a Porcari, l'associazione calcio femminile lucchese è stata battuta per 3-0 dal forte Empoli Ledis, che va ricordato e a compagine di Serie A. Tutte le reti nel primo tempo, grande prova tra le rossonere del portiere lucchese Anna Landi, domenica prossima la squadra di Mister De Luca giocherà la seconda partita del Gironcino sul campo del Pisa, il campionato di Serie B, ricordiamo invece comincerà solo il primo ottobre. Calcio giovanile al campo sportivo di San Macario è andata in scena la seconda giornata del settembre lucchese, riservata alla categoria Juniors, vincono Realforte, Quercete e Lammari rispettivamente, Realforte e Quercete ha battuto il Ghibiborgo 2-0, il Lammari ha superato il Valdinievole Montecatini 4-1. L'Atletiche, tre ragazzi siciliani del gruppo podistico Parco Alpiapuane, Brancato, Terrasi e Scialabba in splendida forma, Alessandro Brancato si è imposto nella corsa Corri Taurianova by night dal canto loro, Terrasi e Scialabba hanno dato prova di un'ottima condizione nella Napoli-Mocarta, gara internazionale di 10 km, prestazioni che fanno ben sperare in vista della finale nazionale di 10 km su strada di Dalmine, che vedranno la squadra del presidente Graziano Poli tra le protagoniste. Dopo i successi di Dele Foglie, primi d'agosto, siamo al ciclismo, il Gragnano Sporting Club si ripete anche in Francia nella prestigiosa gara-tappe 4 jours de Provence dopo una serie di ottimi piazzamenti, l'acuto della formazione giallonera diretta da Marcello Massini è stato di Camberagi Giuliano, che ha vinto allo sprint la quinta tappa e si è giudicato anche la speciale classifica a punti. Siamo al basket, torna a metà settembre con la terza edizione e il prestigioso Trofeo Lovari Memorial del Bono. Avete un appuntamento con il basket, il grande basket, segnatelo in rosso sulla vostra agenda. Le date sono quelle di venerdì 15 e sabato 16 settembre. Il luogo è il Palatagliate di Lucca. L'evento è la terza edizione del Trofeo Carlo Lovari. Nelle edizioni precedenti la manifestazione, che si sviluppa nell'arco di due giorni, ha sempre riscosso un notevole successo tecnico e di pubblico. Gli sportivi, come si può intuire, sono a corsi numerosi sulle tribune del Palatagliate, anche per l'alto livello tecnico del torneo. In effetti, il Trofeo Lovari Memorial Luca Del Bono, quadrangolare di basket, voluto e organizzato dall'Associazione Amici della Pallacanestro Lucca, rappresenta ormai un appuntamento assolutamente di rilievo per tutti gli appassionati del pallone a spicchi e non solo. Tra l'altro, il quadro delle partecipanti è ancora una volta strepitoso. Ci sarà infatti niente meno che la mitica Olimpia Milano, la squadra più titolata in Italia, che va a caccia di riscatto dopo un'annata da dimenticare. A contendergli il Trofeo altre realtà importanti, quali Reggio Emilia, Pesaro e Pistoia. E proprio la compagine pistoiese vinse nel 2016, superando in finale Pesaro 70-64. Chissà che non ci sia una rivincita. Annotazione conclusiva sull'incasso, che sarà devoluto alla promozione della Pallacanestro giovanile del Basquim. Lo scorso anno fu raggiunta la cifra di 10.000 euro, che ha concretamente aiutato tante famiglie lucchesi. L'auspicio, naturalmente, è che si possa andare anche oltre, per il motto di fondo dell'iniziativa, solidarietà e spirito di squadra. Al Palazzetto dello Sport di Viareggio si è tenuto il Gym Campus Toscana di ginnastica ritmica organizzato dalla motto per tutta la settimana. 56 atlete della categoria Gold, provenienti da ogni parte della regione, sono state ospiti della società Viareggina, svolgendo un lavoro con impegno e motivazione appunto di elite. È davvero tutto per quanto riguarda anche il TG Noi Sport. Vi ringrazio per averci seguito. Dopo una breve pausa, TG prosegue con la terza ed ultima parte.